Che caldo! Ciao Rishi e Afrodite, benvenuti o bentornati sul canale. Se tu è la prima volta che mi stai guardando, questo è un canale dedicato alla cura dei capelli Rishi e Afrodite. Come ben sapete, nel mese di agosto stiamo facendo il cronogramma capillare. Il nostro cronogramma capillare che vi lascio sempre qua da qualche parte. E questa è la prima settimana, ma il secondo giorno. Quindi nel secondo giorno c'è l'idratazione. E in questo caso ho scelto una frutta e la frutta in questione è la banana. Quindi sarà la banana l'ingrediente principale della nostra maschera capillare. Prima di parlare della preparazione di questa maschera, andiamo a parlare dei benefici della banana per i nostri capelli. Grazie alla sua fantastica composizione di sostanze nutritive come la vitamina A, C, E e minerali come potassio e cinco, le banane sono diventate un ingrediente chiave per ottenere capelli forti e idratati. La vitamina E, grazie e le sue proprietà antiossidanti, ci aiuta a riparare i danni che si verificano nei follicoli e quindi a migliorare la crescita dei capelli sani. Il cinco è un minerale essenziale per la crescita dei capelli, poiché equilibra i livelli ormonali e costruisce cellule sane per prevenire la caduta dei capelli. La banana ha un grande contenuto di questo minerale ed è per questo che è la chiave per ottenere dei capelli sani e voluminosi. Allora, andiamo subito a quello che è la preparazione di questa maschera capillare. Per la preparazione in questa occasione ho preferito usare il mortaio. Il mortaio perché? Per pestare una banana. Io sto utilizzando soltanto una banana per questa maschera capillare. Andiamo a pestare il più possibile la banana. Non ho usato, come in altre occasioni, una forchetta che potrebbe anche essere usata. In questo caso ho voluto sperimentare con il mortaio. Quindi ho pestato bene, bene, bene quella che è la banana e poi ho aggiunto l'olio di caffè. Che l'olio di caffè lo trovate sempre qua sul canale, io vi lascio il link in descrizione. Ho aggiunto l'olio di canela, ho aggiunto l'olio di rosmarino, un po' di vitamina E che avevo giusto per abbondare. Anche se la banana ha già la vitamina E, però io per abbondare ho aggiunto due cazzule di vitamina E. E dopodiché ho continuato sempre a pestare tutto e a mischiare tutto. Dopodiché ho preso un codino per filtrare tutto questo composto per ridurre la quantità di residui che possa lasciare questa maschera poi sui capelli. Perché la maschera della banana è molto buona. Però tende, se non usate il codino, a lasciare tanti residui che poi alla fine quando si asciugano i capelli vanno via. Però la cosa buona nostra è che quando i capelli sono asciutti, con il nostro styling che abbiamo fatto, è meglio evitare di toccare troppo per evitare che venga fuori friso e che i capelli o i ricci si distruggano, insomma. Quindi con questo modo qua andiamo a ridurre la quantità di residui che possa lasciare questa maschera nei capelli. Dopodiché andiamo ad aggiungere balsamo. Perché? Perché così noi aumentiamo la quantità di maschera. perché altrimenti dovremmo pestare tante di quelle banane che io non lo so se andrete... Poi consumate un po' tutte le banane che ci sono a casa, insomma. Noi andiamo ad aggiungere balsamo per aumentare la quantità di maschera e andiamo a mischiare. Noterete anche tantissimo l'odore di banana, molto prepotentemente, che viene fuori. Una volta che è pronta la maschera, si può applicare nei capelli. Però nei capelli precedentemente lavati, asciugati, per le ragioni che abbiamo già parlato sul canale, per evitare che gosciola tutta la maschera e per facilitare che i follicoli capillari possano assorbire bene questa maschera. Perché se sono pieni di acqua i nostri capelli andranno a assorbire molto di meno. Quindi andiamo ad applicare questa maschera per sessione. Io ho diviso come sempre in quattro sessioni i capelli per comodità e ho applicato come se fosse una tinta per i capelli con una, diciamo, una spazzolina di quella della tinta. Ho applicato per sessioni, con molta calma. Fate una quantità in base alla quantità di capelli che voi avete. Io, voi vedete comunque nell'immagine, avete visto che poi ho aggiunto altro po' di balsamo perché quel barattolo piccolo di vetro non mi bastava, mi sono resa conto dopo. Quindi ho aggiunto altro po' di maschera di balsamo che abbiamo in casa. Abbiamo applicato questa maschera in tutti i capelli per sessioni e poi ho usato la pellicola per trattenere tutto il calore che crea il mio cuore capelluto e così questo calore naturale apre i pori dei follicoli capillari e penetra ancora di più questa maschera. Ho lasciato 45 minuti precisi, vabbè precisi no però, diciamo più o meno 45 minuti e dopodiché ho sciacquato con abbondante acqua. Qua dovete essere pazienti, sciacquate, sciacquate, sciacquate e sciacquate perché questa maschera è molto densa quindi può rimanere, diciamo, un po' di residuo nei capelli. Quindi sciacquate bene, con calma. Questa maschera dovete farla non che siete contro tempo ma che avete del tempo per dedicare ai vostri capelli che vi ringrazieranno tantissimo di questo. Dopodiché ho applicato il balsamo il balsamo ho applicato quello della linea di aloe vera di Garnier e ho districato districato perché se c'è una ragazza su Instagram è una corretta perché ho scritto stricato e districato i capelli e la ringrazio tantissimo. Ho districato, districato i capelli per sessioni e dopodiché ho sciacquato nuovamente i capelli con abbondante acqua e poi ho proceduto a pettinare. Io in questo cronogramma capillare fino al momento non mi sto facendo nessuna tecnica di definizione ma mi sto facendo un guacciango ovvero lasciare i capelli con la testura naturale che loro hanno e lasciarli acciugare così io lo sto acciugando all'aria libera perché capirete che con il fondo, con questo caldo è impossibile andremo a scioglierci come una... come il burro e quindi questo è il risultato finale come potete vedere il risultato finale è magnifico questa maschera capillare alla banana può essere inserita tanto nell'idratazione come nella nutrizione perché grazie alle proprietà della banana che vi ho letto prima e vi ho detto prima la banana va tanto ad idratare come a nutrire i capelli quindi se state seguendo un cronogramma capillare tenete conto che lo potete utilizzare tanto nella nutrizione come nella idratazione i capelli sono morbidissimi, non c'è residui per niente di prodotto, di maschera qualche piccolezza come potete vedere qua c'è qualche piccolezza di residui il resto è semplicemente la luce della della lampada però rispetto a le persone che non filtrano la maschera nel codino rimane molto molto di più anche se il disturbo vale la pena perché effettivamente è una maschera bomba 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 è una maschera che va ad idratare e nutrire allo stesso tempo quindi due in una e questo è il risultato i capelli sono molto morbidi la definizione è veramente mi ha definito tantissimo i capelli vabbè che aiuta anche la crema di pettinale che in questo caso io ho usato quella al pistacchio della Garnier e quindi quella aiuta anche tanto però la maschera come potete vedere mi ha veramente donato tanta morbidezza, tanta lucentezza tanta nutrizione noto proprio i capelli corposi non poveri, proprio corposi e veramente questo è fantastico fantastico per me, per i capelli e li adoro, li adoro tantissimo io questa tanto quella di riso come quella di banana la potete fare due volte a settimana noi intanto ci vediamo la prossima settimana con la seconda settimana del cronogramma capillare e andremo a vedere cosa andiamo a fare questo è tutto per oggi ci vediamo nel prossimo video un bacino ciao ciao